Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Nona puntata La costruzione del nuovo arsenale, iniziata nel 1631 nella zona della Nuova Darsena, è portata a termine nel 1634. Ha un'ottima attrezzatura per la produzione di grosse navi sia da guerra che mercantili in modo da potenziare la flotta del Gran Ducato. Nel 1643 o 1645 inizia la costruzione di un nuovo lazzaretto, elemento essenziale di un porto che voglia attirare i traffici dei paesi orientali. Un utile provvedimento, poiché le mercanzie sospette sono in numero sempre maggiore e i lazzaretti del Fanale e di San Rocco sono diventati insufficienti. Le merci devono fare quarantena a Porto Ferraio o all'Isola del Giglio. Il lazzaretto, situato a circa un chilometro a sud di Livorno, lontano dalla città a garanzia sanitaria, prende il nome dal borgo di San Jacopo. Il canale dei lazzaretti, la Bassata, lo unisce a quello di San Rocco e attraverso la rete dei canali interni alla città e al porto. A Ferdinando II successe Cosimo III dei Medici, col quale iniziò la decadenza della famiglia e che dal punto di vista costruttivo non fece molto. Volse comunque anche egli la sua attenzione al porto, ampliando alcune franchigie e stilando un documento con il quale ne proclamava la neutralità. Per rendere sicura la navigazione lungo le coste della Toscana, fece innalzare un fortilizio in località Romito e una torre quadrata posta su quattro archi sopra le secche della Meloria, disponendo inoltre che le sue pareti fossero sempre tinte di bianco, per poter essere meglio avvistate. Nel 1723 morì Cosimo III e gli successe Gian Gastone, ma dopo pochi anni Livorno venne occupata dall'infante Don Carlo di Spagna, designato successore al Granducato di Toscana, dal Trattato della Quadruplice Alleanza. Fu stipulato un accordo che prevedeva una pacifica convivenza fra gli spagnoli e il Granduca, lasciando a quest'ultimo la sovranità e dando ai primi i maggiori poteri militari. Così Gian Gastone poteva occuparsi dei propri domini. A Livorno fece terminare i magazzini dell'olio detti Bottini dell'olio, capaci di oltre 24.000 barili d'olio, costruzione iniziata da Cosimo III nel 1705. L'edificio era improntato a criteri architettonici, pratici e adatti alle esigenze. Le pareti interne di questi serbatoi vennero rivestite di lavagna e un filtro coperto di cotone fu introdotto per migliorare le proprietà dell'olio, specie di quello da spedire oltremare. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info